Con il 57,18% delle preferenze, il popolo delle primarie del centro-sinistra ha scelto Michele Emiliano quale candidato della coalizione per la successione a Vendola nella guida della Regione Puglia. Lo spoglio, conclusosi in nottata, ha confermato dunque la netta vittoria del segretario regionale del PD ed ex sindaco di Bari rispetto ai suoi diretti sfidanti. Il senatore Dario Stefano, sostenuto da SEL, che ha ottenuto il 31,38% delle preferenze, e Guglielmo Binervini, che ha raggiunto l'11,44% dei voti. Decisamente al di sopra delle previsioni, la partecipazione al voto, che dopo il flop delle regionali in Emilia-Romagna e in Calabria, aveva fatto pensare ad un largo estensionismo. Ed invece 140.000 votanti in tutta la Puglia si sono recati alle urne per scegliere il leader del centro-sinistra, candidato alla presidenza della Regione Puglia. Nelle prime primarie celebrate in Puglia per le regionali del 2005, quando Vendola si affermò a sorpresa sul candidato favorito Francesco Boccia, votarono 78.000 persone. Cinque anni dopo, la stessa sfida tra i due candidati portò alla mobilitazione di 192.000 pugliesi. La grande partecipazione in termini numerici alle primarie del 2014 era stata messa in dubbio anche dallo scontro consumatosi tra Emiliano, che qualche giorno prima aveva annunciato in solitaria un'alleanza con l'Udc, e gli altri candidati, ma soprattutto con Vendola, che dopo un vertice di maggioranza convocato venerdì sera, aveva annunciato il disimpegno di Selle dai Gazebo. Poi c'è stato il vertice tra i partiti della coalizione a sancire la pace, o almeno una tregua che ha consentito di celebrare in tranquillità la consultazione. Felice di questa vittoria, da domani però inizia la campagna elettorale vera, ha detto Emiliano dopo la diffusione dei dati. Un risultato inequivocabile, ha dichiarato Stefano, che ha aggiunto, ho sempre sostenuto che non eravamo avversari tra noi, ma alleati che concorrevano per un primato, indossando gli stessi colori sociali, quelli dell'alleanza. Ora, avanti tutti per quello che ancora ci attende, ossia concludere bene questa esperienza di governo regionale e confermarsi vincenti alle elezioni. Intanto il centrodestra non ha ancora ufficializzato la propria scelta. Naufragata oramai l'ipotesi di primaria, per la coalizione ci sono in campo l'autocandidatura del presidente della provincia di Bari, Francesco Schittulli, che sembrerebbe il favorito, e quella del vicepresidente del Consiglio regionale pugliese, Nino Marmo.